È stata una delle operazioni più difficili nella storia dei soccorsi in montagna e per fortuna un lieto fine. È stato infatti riportato in superficie lo speleologo tedesco ferito, intrappolato a mille metri sottoterra per 11 giorni in una grotta nelle Alpi Bavaresi. Per salvare Johan Westhauser, 52 anni, sono state mobilitate 728 persone da 5 paesi, tra personale medico, speleologi ed equipaggi di elicotteri. In queste immagini spettacolari si vedono le complesse operazioni di salvataggio, che hanno coinvolto anche 109 tecnici italiani del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. L'uomo è riapparso in superficie 274 ore dopo l'incidente. Una unità di medici rianimatori gli ha somministrato le prime cure prima di trasferirlo in un ospedale. Originario di Karlsruhe, Westhauser si era ferito alla testa e al petto per la caduta di Sassi, mentre esplorava con due compagni la grotta di Resending Shakhtoele alla frontiera austriaca.